Sì, grazie Presidente. Prima di iniziare ad entrare nel merito del disegno di legge in questione vorrei ringraziare il Presidente Liccheri e tutta la Commissione, sia la maggioranza che la minoranza, per l'ottimo lavoro svolto durante i lavori. In questi mesi di lavoro di legge alla legge europea non sono mancati i dibattiti, alle volte accesi ma sempre costruttivi e nell'interesse comune, ma andiamo al disegno di legge in questione. È iniziato in Senato il 26 settembre del 2018 e vede la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione Europea. Sono state dunque inserite in questo disegno di legge le norme volte a prevenire l'apertura o a consentire la chiusura di procedure di infrazione. Dei 22 articoli presi in considerazione intendo porre l'attenzione su quelli nel quale mi sono speso molto, perché li ritenevo alquanto bizzarri nel loro principio e nelle loro finalità. Ma del resto le iniziative a ricaduta diretta che abbiamo subito per decisione dell'Europa e per mano della Commissione Europea sono già di per sé bizzare sul nascere. Figuriamoci nella loro interpretazione pratica. E un esempio lampante sia subito dall'articolo 1, disposizione in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Parliamo nello specifico di qualifiche professionali quali farmacisti, infermieri, fisioterapisti, eccetera. Professioni che necessitano nel nostro paese di un percorso formativo che inizia nel migliore dei casi con un test di ammissione ben preciso e con un costo notevole fatto dalle famiglie e con dei sacrifici quindi fatti dalle stesse famiglie per portare al termine il percorso dei propri figli. La stessa cosa, ad esempio, non vale per i paesi come Romania, Bulgaria, Ungheria, dove lo stesso percorso formativo dura sei mesi e non tre anni o cinque come in Italia, costa 1.500 euro quando sono tanti, mentre da noi costa 35.000 euro se tutto va bene. E poi a fine percorso non si deve svolgere nemmeno il tirocinio finale. Ecco, vedete, queste sono le regole sbagliate che mettono ancora una volta nero su bianco l'evidenza ormai nota di un'Europa che funziona a due se non tre velocità, un'Europa che non riconosce nemmeno le diversità di preparazione, un'Europa che ci vuole sempre più tutti uguali, senza meriti, con tanti doveri e con pochi diritti. Abbiamo quindi inserito norme più restrittive per chi vuole svolgere queste attività equiparate con criteri europei, che siano di pari livello ai nostri, aggiungendo esami integrativi e veri e propri test di ammissione, proprio per salvaguardare i giovani italiani che diversamente si vedrebbero scippare posti di lavoro senza nessuna voce in capitolo. La stessa cosa l'abbiamo vista nell'articolo 2, dove una semplice parola, la parola servizi, andava a mettere in ginocchio un'intera classe lavorativa, quella dei mediatori immobiliari o degli agenti immobiliari, come li vogliamo chiamare, già colpiti da una crisi di mercato ormai infinita. Con la nostra modifica potranno continuare ad avere la possibilità di gestire al meglio le loro attività, lasciandoli lavorare proprio in quei servizi che oggi fanno girare l'intera filiera dal commercio delle case e dall'affitto degli immobili stessi. Così come ci hanno più volte rimarcato loro stessi in commissione, quando li abbiamo sentiti in audizione. Con la garanzia di aver reso incompatibile anche a questa attività tutte le parti relative ai dipendenti degli istituti di credito e delle compagnie assicurative. Garantendo quindi a tutti gli operatori di questa categoria parità di lavoro e di libero mercato commerciale. Per concludere, infine con l'articolo 20, disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature. E su questo mi voglio un attimino soffermare, Presidente. È ormai nota la mia grande simpatia per gli amministratori locali, sia dei piccoli comuni che dei medi comuni, cosa che peraltro non ho mai nascosto. Soprattutto in quest'Aula. Avendo avuto in passato la fortuna di fare amministrazione a livello locale e conoscendo molto bene le difficoltà, non resisto di fronte a queste cose, mi dovete scusare. Ma quando vedo atti comunitari o direttive comunitarie o quel cavolo che volete, che mirano al buon lavoro dei nostri sindaci che fanno ogni giorno attraverso le difficoltà amministrative, non riesco e non voglio girare la testa dall'altra parte. Grazie. Grazie alla nostra modifica i sindaci potranno mettere in sicurezza i nostri parchi, il verde pubblico, sfalciare l'erba, tagliare le rive, rimuovere le erbacce e quindi chiudere in santa pace i loro bilanci senza costi aggiuntivi per le casse comunali. Apro e chiudo una parentesi. Mentre ci siamo vorrei ricordare a tutti noi che la maggior parte dei sindaci di questo Paese sta anche tenendo in ordine il verde pubblico che era di competenza provinciale e che oggi nessuno riordina più, grazie a quei fenomeni che hanno abolito le province. Perché ai sindaci la gente suona il campanello e ai parlamentari no. Mi auguro che presto ci si metta mano, giusto per non dimenticare, lo ricordo a tutti. Tornando alla legge europea in questione possiamo quindi dire che l'euroidiozia, che gli sfalci e le potature diventino rifiuti speciali per ora è stata scongiurata, ma sono sicuro che la partita non finisce e non finirà qui. Vedete, noi passiamo gran parte del tempo in Commissione cercando di risolvere infrazioni, dedicandoci al ricepimento di deleghe, che il più delle volte sono delle vere e proprie follie. Tanto che molte volte leggendole mi chiedo quali menti possano generare cose del genere. Però ho una consapevolezza che mi dà speranza. Tra 40 giorni non saranno più gli sfalci e le potature ad essere smaltiti, ma sarà una Commissione europea che non ci rappresenta e che non ha mai rappresentato nessuno. Grazie Presidente.